Penso sì che gli spunti iniziali, quelli da cui siamo partiti, appunto mettendo in evidenza la vicenda di Grafica Veneta e quella che ha spiegato Dario delle GKN, sono due esempi che ci consentono di ragionare attorno a un nodo fondamentale che è quello che sottolineava Dario, cioè che laddove non c'è conflitto non c'è possibilità di costruire qualcosa di diverso. Quello che abbiamo di fronte è un mondo del lavoro che è frastagliato in un modo pazzesco, c'è stata una ristrutturazione, una riorganizzazione capitalistica che ha devastato quello che era un mondo del lavoro abbastanza definito, quello che abbiamo conosciuto ancora dell'operaio massa, insomma del percorso dopo guerra arrivando appunto alla industria degli anni 60-70. La ristrutturazione capitalistica ha portato una frammentazione che ha coinvolto non solo il mondo del settore privato ma anche, come si sottolineava prima, tutto il comparto anche del settore pubblico dove anche là troviamo una frammentazione incredibile, pensiamo solo come sono stati appaltati tutti i servizi che c'erano negli ospedali, nelle scuole, dappertutto. Quindi è chiaro che ci troviamo di fronte a una complessità enorme nel cercare di capire quali risposte mettere in campo, come ripartire da un ragionamento sulla composizione di classe per cercare di intravedere percorsi anche organizzativi che possano quantomeno tentare di mettere dei paletti e di costruire delle comunità di lotta perché questo secondo me è il percorso che dobbiamo assolutamente cercare di percorrere e questa cosa ovviamente parte da esperienze concrete di lotta, non può che partire da queste io, noi ci siamo occupati come ADL in particolar modo del mondo della logistica e la logistica come ben sappiamo insomma è stato un settore, ed è tuttora un settore strategico fondamentale dal punto di vista capitalista, la circolazione delle merci è un elemento dal punto di vista dell'accumulazione determinante ed era un settore dove c'era tutto quello che è stato detto dal caporalato, la schiavitù, l'evasione fiscale, contributiva c'era tutto all'interno della logistica, cose che sono riprodotte vuol dire in grafica veneta hanno imparato c'è il fatto che ci sia la possibilità di utilizzare questa forza lavoro specialmente ovviamente straniera quindi c'è una logica che passa attraverso le leggi che hanno fatto sull'immigrazione di poter includere in maniera diversificata, no differenziata, questa forza lavoro che arriva adesso lo vediamo bene nella logistica, nei magazzini ma anche in tanti altri posti nella campagna in primis vuol dire vanno a prendersi i migranti nei centri di accoglienza dove sono toccati i richiedenti asilo questa è la dimensione oggi che vediamo appunto c'è stato anche un morto anche oggi mi sembra giù al sud che è bruciata una baraccopoli dove purtroppo un altro migrante che ci ha lasciato le penne proprio in nome di questo sfruttamento selvaggio e allora io penso che noi nel momento in cui appunto siamo resi conto che da determinate situazioni di sfruttamento come quelle che abbiamo visto nella logistica l'unica possibilità è quella di riuscire a organizzarsi di riuscire a costruire percorsi di lotta, di conflitto e che si trovano di fronte a ostacoli enormi perché non abbiamo solo i padroni che ci troviamo di fronte a combattere ci troviamo di fronte anche a un sistema di legislazione sulla democrazia, sulla rappresentanza che a noi ma non tanto a noi come ADL ma che impedisce ai lavoratori di potersi organizzare per rivendicare anche diritti formali che non sono qualcosa di indifferente i diritti formali poter fare assemblee retribuite, avere i permessi sindacali, poter organizzarsi da questo punto di vista è fondamentale per costruire la lotta e noi in base ai rapporti di forza in tantissimi posti di lavoro nei più grandi magazzini della logistica, dalla GLS, SDA, BRT ma anche la grande distribuzione pensiamo solo a Geox, pensiamo a Tigotà, pensiamo a Liqua nel territorio padovano, pensiamo a Aspie però ci siamo trovati di fronte anche a una capacità da parte dopo che abbiamo conquistato di questi diritti come è successo in TNT che grazie a di cambio a una internalizzazione siamo trovati anche che si hanno tolto i diritti sindacali, noi oggi che abbiamo portato legalità e abbiamo portato, abbiamo combattuto contro l'evasione fiscale, contributiva e abbiamo conquistato diritti veri, siamo trovati oggi che siamo esclusi dai diritti sindacali ora io pongo un problema che all'interno di questa battaglia, io penso l'esperienza anche organizzativa del GKN sia un grande insegnamento perché è andata oltre l'aspetto della classica organizzazione sindacale, però io penso che sia un problema oggi dobbiamo porci di come si costruiscono delle comunicazioni che sono una relazione che guardi in avanti ma che guardi in avanti sul conflitto perché io penso che un concetto di inter sindacalità possa passare non attraverso la mucchiata, di mettere assieme come succede anche di frequente, si mettono assieme tutte le sigle, anche il sindacalismo di base o conflittuale come viene chiamato e poi si organizzano scioperi generali che poi non hanno niente di scioperi generali mentre invece quello che è fondamentale è capire laddove ci sono settori nei quali si può costruire conflitto, capire con chi ti metti a fare il conflitto ma con chi vuole fare il conflitto, con chi semplicemente lo enuncia, lo annuncia e poi non lo fa. Quindi il tema che io voglio porre è questo, oggi abbiamo di fronte anche a livello nazionale, siamo in una situazione dove ad esempio sul concetto del salario minimo, sappiamo c'è stata questa direttiva europea che non cambierà nulla, non verrà introdotto né a livello europeo né a livello nazionale un salario minimo dignitoso che possa partire almeno dai cosiddetti 9 euro, quello che viene detto 9 euro lordi all'ora, no, non arriveremo mai a questo tipo di condizione perché hanno tutto interesse a mantenere questa frammentazione e perché vengono applicati contratti collettivi nazionali che sono quelli che hanno un valore di carattere nazionale, quello sui servizi fiduciari che sono 4 euro lordi all'ora, quello sulle pulizie sono 7 euro, quelli che riguardano operatori sociali, turismo eccetera che sono comunque buste paga da fame. Allora non c'è una soluzione secondo me legislativa da questo punto se non che è frutto semplicemente di grandi conflitti, di capacità di mettere in campo grandi mobilizzazioni, non c'è altra strada e io penso che anche su questo dovremmo organizzarci, dovremmo pensare a come costruire nell'autunno dei momenti di mobilizzazione che tengano conto dell'aspetto della convergenza di lotte per l'aspetto della questione climatica, della guerra, sono questioni fondamentali sulle quali dobbiamo interagire con i movimenti e però contemporaneamente anche per quello che riguarda la maggior parte del tempo di ciascuno di noi che lo passa appunto nel posto di lavoro è chiaro questo è un elemento fondamentale ma dobbiamo anche porci un problema che vivere con 700 euro al mese che è quello che prendono quelli che fanno guardiania e servizi fiduciari è chiaro è una roba assolutamente inaccettabile, dobbiamo indignarci e dobbiamo insorgere ma dobbiamo insorgere insieme, dobbiamo costruire reti di comunicazione, di mobilizzazione che guardano però alla sostanza la necessità di cambiare le cose, non semplicemente di fare spettatori ed è una grande scommessa quella che avremo di fronte e io mi auguro che in questo prossimo autunno ci sia una capacità di parlarci, di avere un grande anche un progetto di costruzione di dinamiche di lotta che possono effettivamente riuscire anche a cambiare queste situazioni che sono veramente inaccettabili.